Siete pronti a farvi un viaggio di piaceri? Prendi il treno che ti porta nell'America anni 50. Express! Ogni momento è giusto per farci un salto. Non solo hamburger da 180 grammi e la novità, il ciccioburger da 220 grammi. Ma anche piatti tipici, specialità americane e messicane. Vi stupirete! Express! Inizia la giornata con le ciambelle di Homer Simpson. Aperitivo con mega buffet. Express! In Piazza Libertà a Sacile. Proprio di fronte alla stazione dei treni. Ampio parcheggio.